Se davvero vogliamo che il partito serva alla mafia, bisognerà di escludere la corruzione. È stato il primo a denunciare la mafia come la conosciamo oggi. Lei così facendo trattisce il partito. A retroscena, lo spettacolo La Mafia. È terribile pensare che Sturzo ha scritto questo testo nel 1900. E poi, insieme per la rinascita, un inno all'arte che riparte. L'arte è importante per la salvezza dell'anima. Non perdiamoci di vista. Grazie a tutti.